Buongiorno marinaio del web. Oggi vi do denuncia perché sono indignato. Sono indignato. E vuoi sapere perché? Sono indignato perché siamo ad agosto e tutti sono in ferie con la barca. È in Sardegna, è in Croazia, è in Grecia, è il giro delle isole pontine. E io? E io? E io? E io lavoro. Lavoro. Dillo alla mamma, dillo all'avvocato. Anzi, sai cosa ti dico? Me la faccio anch'io alla vacanza. Con un tender. Eccomi, è arrivato a casa. In realtà sono nei sotterranei di radio di bordo per preparare tutto il materiale che mi servirà per la mia micro vacanza in tender. E come vi ho detto, la prima cosa fondamentale è il tender. Il tender di cui ti parlerò oggi è prodotto dalla Velleria San Giorgio, che non è solo il leader nella produzione di giubbotti di salvataggio e dotazioni di sicurezza, ma ha creato un tender davvero rivoluzionario. Il Safety Tender 6.0 Eccolo qua il nostro tender. Una volta aperta la confezione, all'interno troverai un certificato CE, la sacca di trasporto del tender, il gonfiatore per poterlo gonfiare, una coppia di remi, il kit di riparazione, se proprio dovesse succedere che mi trovo un foro, però si può riparare, e il manuale d'uso e manutenzione. Ma la cosa che ancora non ti ho detto è il perché il Safety Tender 6.0 è davvero rivoluzionario. Perché è un tender catamarano, perché ha tantissimo spazio a bordo e perché è omologato CE e può trasportare fino a 6 persone. Ma bando alle ciance, è arrivato il momento di gonfiarlo e ti faccio vedere in quanto tempo possiamo gonfiarlo col gonfiatore in dotazione. Grazie a tutti. Eccolo qui il tender gonfiato, lunghezza 2,50 m, larghezza 165 m, come vedi ampia spiaggetta di prua, prua aperta, scalmi per i remi e sullo specchio di poppa la targhetta che riporta tutti i dati di certificazione CE. Bello, bello, bello. Direi che il Super Tender è pronto, non mi rimane che provarlo in acqua. Andiamo. E finalmente, dopo averlo scartato, dopo averlo gonfiato, sono in acqua col Safety Tender 6.0 della Veleria San Giorgio. Un tender davvero particolare, presentato nel 2022 al Salone di Genova. Particolare perché? Perché è omologato CE e può trasportare fino a 6 persone. 540 kg di portata massima tra persone, bagagli e motore. Può essere equipaggiato con un motore 4 cavalli a gambo corto. Un'altra particolarità di questo... Aspettate, perché come Giacobbo siamo riusciti ad avere un permesso speciale e siamo passati sotto al bimillenario ponte di Tiberio di Rimini. E solo noi ci siamo riusciti. Ci hanno dato le chiavi del ponte. Ce le ha le chiavi il ponte? No, ce le ha le chiavi il ponte. Che ho qui nella tasca, le chiavi che ci hanno dato per attraversare questo ponte. Meraviglioso. Tornando al tender, un'altra particolarità del Safety 6.0 è la prua aperta. Prua aperta che consente la risalita dopo il bagno, oppure, non lo so, andate in una bella baia con la vostra barca, volete fare una bella cena di pesce in quel ristorantino laggiù, tutti e sei ci state a bordo e potete andare a mangiare. Il tender vi viene consegnato così come lo vedete, quindi con una coppia di remi, con le due panche in alluminio, il kit di riparazione, la sacca di trasporto, il certificato CE e naturalmente anche il manuale di istruzioni e di manutenzione. Accessori facoltativi, la sacca da installare sotto alla panca e il telo on TV per coprirlo, per proteggerlo da sole. Non è che andrò tanto tanto lontano dalla costa, secondo me no. Però mi porto sicuramente un Airbag Slim 6.0 che è il piccolo giubbato di salvataggio autogonfiabile che si mette come un marsupio, quindi comodo, piccolo. Le varie boette fumogeni, razzi, luci, tutto quanto. segnalatore acustico, salvagente anulare con cima, estintore che non sia mai mi venga voglia di fare una grigliata così. VHF galleggiante, una piccola ancora all da 3 kg che per fondali sabbiosi va più che bene. Cime, cime e ancora cime. La cosa bella è che lo spazio a bordo è davvero tanto perché tutto il pozzetto è circa due metri quadri, un metro e otto, quindi direi che per la mia vacanza è perfetto, vacanza in tender. In realtà non è la mia vacanza perché siamo in due, ma lui ancora non lo sa. Sto parlando di mio fratello Piero che è l'altra anima di radio di bordo. Ciao Piero, ciao Piero. Dei due il vero navigatore, giusto? Sembrerebbe. Sembrerebbe. E niente, ci faremo questo giretto, durata vedremo. Vacanza in tender. Vacanza in tender. Oh, guarda, ci stiamo, eh. C'è lo spazio. Tanto abbiamo detto dotazioni di bordo, qualcosa da mangiare, qualche birretta da bere. Una grigliata. No, griglia, ma non so. La traina, sì. La traina, sì, obbligatoria e direi che ci siamo. Puoi trovare il link del safety tender 6.0 in descrizione, comunque ti lascio il link anche nel primo commento. Adesso ultimi preparativi, se ti è piaciuto il video lascia un like, mi raccomando iscriviti al canale, commenta se vuoi che mi porti qualcosa e adesso basta. Finalmente mi godo una bella vacanza in mare. Dove fai il tour mare? No, no, mare, lavorare ho detto, vado a lavorare. Ah, ecco. Ci vediamo la prossima settimana, ciao. 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 Ciao.